quali sono le parole su di voi? una parola, due o tre o tre su di me una piccola parola ripetono la vita faccio il paziente paziente e il cuore quindi un vero paziente doc ma dopo dopo guarda i suoi di una cosa lì sono la prima cosa Maria Antonietta Ponticelli grazie grazie quest'anno qua sono due dall'ottanta benissimo mi piace Giuseppe la signora la signora la signora la signora abbiamo anche il fondatore del gruppo degli artisti erpini che riprende come telecamera e che fa parte di una neo-associazione in Bucadena che si è leggera non vedo nessuno ci sta Rossella ogni presente Rossella l'animatrice di Villa dei Pini se lui regista lo so se lui regista regista allora io voglio ringraziare la struttura Villa dei Pini per avermi fatto felice insomma sono felice questa giornata elogio lo staff femministico e lo staff medico perchè qui sanno come prendere certi patenti come me ad esempio ad esempio che sono molto particolari ok? tutte le offre grazie grazie